Mentre parlo è 5 maggio 2020, ma penso di far uscire la premiere in ritardo. Recentemente ho saputo dell'esistenza di un canale di Youtube chiamato DumaKanDuma. Mi piace, perché parla di strade percorribili a piedi. Per ora so poco sul canale DumaKanDuma, comunque grazie a quel canale ho saputo dell'esistenza della Magna Via Francigena, che si trova in Sicilia, infatti collega Palermo con Agrigento. Non ho capito se esistono altri percorsi all'interno della stessa regione. Sapevo dell'esistenza di un'altra via francigena che collega Roma con Calais. A quanto pare esistono anche altre vie francigene. In più esiste il cammino di Santiago de Compostela, che ha vari percorsi. Almeno uno passa per la Francia, non è chiaro se interseca una delle vie francigene. Mi piacerebbe sapere se esistono percorsi analoghi in altri stati. Come dicevo poco tempo fa, mi piacerebbe che tutti i centri abitati fossero collegati tra loro da strade percorribili a piedi. Non ho niente contro i veicoli a motore, però mi sembra ingiusto discriminare coloro che non possiedono tali veicoli. Se volete ulteriori informazioni sulle vie francigene o sul cammino di Santiago de Compostela, vi consiglio di consultare i relativi siti internet. Se conoscete altre strade percorribili a piedi, vi chiedo di segnalarle nei commenti. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.